Verona città d'arte, quarta tra le più belle in Italia. Bisogna investire su questo punto di forza per far partire il volano dello sviluppo in quella che è una crisi che sta attanagliando le imprese artigiane e in particolare il settore dell'edilizia, spiega Ferdinando Marchi, segretario di CNA Verona, confederazione che riunisce oltre 2500 aziende. Il comparto relativo alle costruzioni e attività collegate è uno dei più consistenti nel numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il suo stato di salute è perciò rilevante per l'economia nel suo complesso. Stanno affrontando, come nel resto d'Italia, un calo drastico del lavoro, una situazione di pesante tensione finanziaria, dovuta anche a ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, dovute alla stretta creditizia da parte delle banche, dovute alla difficoltà di sopportare una pressione fiscale che oggi non è proporzionata al lavoro prodotto. Nell'appello rivolto di recente al Governo dalla CNA ci sono richieste prioritarie per rimettere in moto il settore, un piano di investimenti pubblici e uno per agevolare i privati. È di segno positivo, perciò, la proroga del bonus del 50% per le ristrutturazioni, investimenti e risparmio energetico, ma bisogna muoversi anche in altre direzioni. Pensiamo al dissesto idrogeologico, alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, un lavoro che deve andare avanti con una strategia condivisa e di concerto con gli enti locali. Abbiamo bisogno sostanzialmente di un allentamento del patto di stabilità, abbiamo bisogno di un programma di investimenti nella riqualificazione edilizia delle città per quanto riguarda investimenti a fronte di problematiche ambientali, di sesti idrogeologici, come nel Veronese, riqualificazione dell'edilizia scolastica. Rispetto al privato, diciamo, abbiamo bisogno comunque anche di iniziative che difendano comunque una ricchezza del territorio. Ecco perché noi abbiamo individuato anche nel turismo, Verona è una delle città a vocazione turistica, uno dei volani che possono spingere, per così dire, anche l'intera economia del territorio. Non possiamo andare avanti pensando ognuno di avere una propria strategia, enti locali, aziende partecipate, associazioni economiche, banche e via dicendo. Dobbiamo fare sistema e programmare insieme, perché diversamente oggi non c'è più spazio per iniziative disgiunte non coordinate.